della prescrizione dal punto di vista del regime della prova. Un'ultima notazione di fronte alla giurisprudenza più volte invocata in quest'Aula dal collega Sannicandro e gli ricorderò che proprio di seguito al vigore dell'articolo 3 della cosiddetta Balduzzi vi è stata una giurisprudenza completamente diversa per certi versi e non da ultimo quella del Tribunale di Milano che in più sentenze ha ratificato puntualmente il Tribunale di Milano che è sempre un'eccellenza rispetto a questi temi ha ratificato più volte la responsabilità extra-contrattuale come viatico anche per la responsabilità civile come diretta scaturiggine dell'attuale norma vigente in tema di responsabilità che è proprio l'articolo 3. Quindi credo che questo sia un motivo e un tema di grande riflessione soprattutto per il Senato che dovrà rileggere questo provvedimento e che mi auguro possa porre rimedio a questi direi quasi fisiologici squilibri per una riforma così importante ma è evidente che il passaggio da una buona legge a un'ottima legge possa essere tollerabile voteremo ovviamente a favore. Grazie. Onorevole Grillo, prego. Voto favorevole. Grazie. Onorevole Baroni a titolo personale, prego. L'emendamento sopprime la previsione che la struttura risponda delle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intremauraria, la famosa intramenia, nonché attraverso la telemedicina. Si pone infatti il problema di costituzionalità rispetto ai liberi professionisti, ad esempio avvocati o ingegneri, obbligati a stipulare un'assicurazione ed altri, quelli della sanità, non obbligati. Si dovrebbe prevedere una doppia responsabilità, quantomeno con onere assicurativi ripartiti, una legata alla struttura dove si svolge la libera professione e l'altra legata alla prestazione sanitaria libero professionale. Per questo noi chiediamo la soppressione di questo comma. Grazie. Grazie. Non ho altri scritti a parlare. Metto in votazione gli identici 7.16 Colletti e 7.17 S.